La Juventus è molto vicina a chiudere un affare simile a quello che ha portato Quicca Quarazchelia al Napoli. Ciao! Ti chiedo di eliminare tutte le distrazioni intorno a te e mettere il video a schermo intero, e di rimanere fino alla fine. Se possibile, iscriviti anche al canale, perché qui avrai sempre una notizia fresca sulla Juve. L'anno scorso, il giorgiano Quicca Quarazchelia è arrivato al Napoli e si è rapidamente affermato lì. Quarazchelia è stato un grande ritrovamento di Giuntoli, poiché il giorgiano era un nome completamente sconosciuto nel mondo del calcio. Ora, si dice che Cristiano Giuntoli abbia trovato un altro giocatore, anch'esso di nazionalità georgiana, altrettanto talentuoso quanto Quarazchelia. Il compatriota di Quarazchelia, Giorgi Quernazze, potrebbe presto indossare la maglia della Juventus Quernazze seguito da Giuntoli, che vuole puntare nuovamente su un giocatore di nazionalità georgiana e sembra averlo scelto per questo. Giorgi Quernazze è attualmente in prestito al colchetti ipoti dal Frosinone. La Juventus intende sfruttare il buon rapporto che ha con il Frosinone, dove Sule è in prestito, per convincere il presidente Maurizio Stirpe a cedere il giorgiano. Giorgi Quernazze ha 20 anni, due in meno rispetto a Quarazchelia. Gioca nella stessa posizione del giocatore del Napoli. Quernazze ha un buon prezzo. Credo che la Juve dovrebbe puntare su questo giovane, mi sembra essere un eccellente giocatore.